Grazie Presidente, prenderò veramente solo qualche minuto, meno tempo dei 10 minuti a me concessi. Ho sentito ora diversi interventi in cui si parla di ritardo, il panziente già è morto, siete arrivati in ritardo. Vorrei capire il ritardo, Presidente, rispetto a cosa? Perché non c'è stato alcun tipo di ritardo. Noi oggi siamo in aula per votare una delibera che poi avrà tutta la sua fase emendativa, una delibera che già è esecutiva. Noi andiamo a ratificare una delibera che ad oggi già sta dando i suoi effetti per le categorie produttive della città, per i negozianti della città, poiché i Tauri le attività già li hanno potuti mettere a terra, aprire, avere più spazi verso l'esterno. Quindi non vedo sinceramente il ritardo e non capisco perché si parla di ritardo. Tra l'altro una delibera che ovviamente come tutte le delibera ha fatto il proprio percorso per i pareri. Quindi di conseguenza si arriva ad oggi in aula perché ad oggi è calendarizzabile. Quindi non c'è alcun tipo di ritardo. Una delibera che noi andiamo a ratificare, che attraverserà ora e affronterà ora la sua fase emendativa per essere migliorata, che non ha sinceramente alcun tipo di ritardo. Siamo nel momento giusto per approvarla. Una delibera che già sta dando i suoi effetti già ora in città, già è effettiva. Grazie Presidente.